Ciao a tutti, buon primo novembre, anche se ieri sera probabilmente avete festeggiato Halloween, quest'oggi abbiamo lo stesso, un simpatico ed interessante walk per voi. Si tratta di 21 minuti in home con 50 double unders, 10 n stamp shop e 2 rope climb, 2 rope climb. Carichi e tutto il resto sulla grafica di fianco e il riscaldamento, se lo volete, lo trovate sulle storie di Instagram. Ciao e a domani.